I troppi buchi nelle strade e l'aumento in percentuale dei rischi di incidenti ha fatto in modo che alla gara che noi dobbiamo fare ogni anno per rinnovare le polizie assicurative non abbia partecipato nessuno. Abbiamo anche visto purtroppo che per riuscire a fare una proroga di sei mesi nell'attesa di fare un'altra gara, i prossimi sei mesi ci costeranno quanto ci sono costati gli ultimi dodici quindi esattamente il raddoppio delle polizie assicurative per l'RCT, la responsabilità civile verso terzi quindi le polizie che servono per pagare i danni alle persone che ci fanno causa perché le strade sono malinarnese e quindi a volte causano degli incidenti e questo mi dispiace perché oltre a non dare un servizio ai cittadini adesso facciamo anche fatica a trovare la compagnia che ci assicuri per queste cose quindi mi dispiace dover dire sempre queste cose tragiche perché le cose tragiche continuamente dette poi diventano una normalità ma i problemi sono veri e concreti e non so come faremo. E sempre nella tragedia comunque c'è anche una buona notizia per aiutare chi viene colpito dalla crisi anche in provincia di Bergamo. Sì, oggi abbiamo deliberato il famoso mezzo milione di euro di dare alla Caritas che sta discutendo insieme ai rappresentanti di tutte le maestranze bergamasche per vedere quali sono le priorità di aiuto ripeto, la Caritas non dà e non ha mai dato soldi a chi ne ha bisogno ha sempre fatto in modo di dare o buoni per fare acquisti di cose necessarie per la sopravvivenza come gli alimentari e pagando le bollette della luce, del gas o degli affitti quando queste cose vengono verificate. In aggiunta oggi ho anche deciso insieme alla Giunta siccome abbiamo avuto in restituzione da Casa Amica otto appartamenti di proprietà della provincia che sono dei belli appartamenti, li ho visti io personalmente tutti qui nella città di Bergamo ho pensato di parlare con la Caritas per mettere questi otto appartamenti anche loro al servizio come appartamenti di riserva per delle famiglie che avessero grandi difficoltà oppure se preferiscono invece che farsi pagare l'affitto spostarsi per alcuni mesi concordandolo sempre con la Caritas e spero che la Caritas sia d'accordo su questo per fare in modo che le nostre famiglie bergamasche non sono tanti, sono otto appartamenti però otto famiglie in appartamenti più che decorosi direi molto belli in zone centrali della città potrebbero avere un sollievo e spero che questo sia un altro aiuto.